E sull'importanza delle vaccinazioni si è espresso anche Donato Greco, epidemiologo e componente del Comitato Tecnico Scientifico. I dettagli nel servizio. Virus e batteri sono sulla Terra da 4 miliardi di anni. Da ben prima dell'arrivo dell'uomo e anche la loro evoluzione fa parte della storia. E' quanto emerso nel corso del convegno Pandemie e Varianti, organizzato dalla ASD di Bari nella Fiera del Levante, in cui si è discusso delle epidemie, della ricerca e della prevenzione, intesi quali strumenti essenziali per governarle. Tra i relatori anche Donato Greco, epidemiologo e componente del Comitato Tecnico Scientifico per l'Emergenza Coronavirus del Ministero della Salute, convinto che il virus si possa sconfiggere con le vaccinazioni. Anche la temuta variante Delta si combatte con il farmaco, con due dosi, la copertura dell'88% che si dimezza con una sola. In questo momento pandemico diventa essenziale l'uso massiccio dei vaccini e di conseguenza della certificazione verde. Il Green Pass è una grande soluzione, che dà un segnale di protezione per se stessi e per la comunità. Noi siamo molto contenti del Green Pass. Certamente vediamo un Green Pass futuro, che sia fatto di guarigione e vaccinazione, che veda meno usato il tampone, che invece è un elemento più fragile. Noi siamo favorevoli all'uso più massiccio possibile di questo Green Pass. In Italia si sta facendo uno sforzo in mane, procedendo con le vaccinazioni specie per arginare le varianti, che stanno prendendo piede. Anche se adesso non c'è un picco preoccupante di ospedalizzazioni, nonostante l'incremento dei casi, ha sottolineato l'esperto. Rispettare le regole anticontagio diventa ora più che mai essenziale. Questo è un momento delicato. Fino a che non completiamo il ciclo vaccinale a tutta la popolazione vaccinabile, almeno all'80%, bisogna sempre essere prudenti. Quindi una maggiore prudenza in questi due mesi dell'ultima corsa vaccinale, fino a tra luglio e agosto e primi di settembre, va mantenuta. È chiaro che la prospettiva delle vaccinazioni è quella di stare più liberi, sicuramente.